Mi chiamo Andrea Pagliari, dirigo in SAP i servizi di consulenza. Il ruolo dello sponsor, forse è un ruolo un po' antico, oggi abbiamo sentito parlare di tanti temi, paradigmi, modalità che non si applicano più tanto. Di sicuro è una trasformazione digitale, la sponsorship non è ammessa, bisogna entrare, mettersi in gioco, entrare nel vivo, anche noi come SAP l'abbiamo fatto in questo gruppo di lavoro, partecipando in modo molto attivo con contenuti, spunti, alcuni li vedremo insieme anche domani. Vorremmo mantenere questo dialogo aperto con IDP su alcuni temi di approfondimento, vi racconteremo qualche spunto anche qui domani e personalmente sono molto interessato, molto curioso di apprendere da voi, dalla vostra voce, dalla vostra esperienza, quali sono i punti di vista, gli ostacoli, le prospettive che su questo tema la toccare, vedete, quindi ho un interesse personale molto forte nel entrare nel merito con il vostro aiuto. Non perdiamo altro tempo, entriamo nel vivo dei lavori con Paolo. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie Andrea. Luca vieni qua così. Bene, buongiorno a tutti. Come vi anticipavano Andrea e Giovanni, entriamo nel merito di come le tecnologie digitali cambiano le politiche delle risorse umane e quindi spostiamo l'attenzione dalla descrizione del fenomeno all'execution per vedere al di là delle cose che ci diciamo, che è bello dire, che siamo tutti digital e in che termini e fino a che punto e in che modo queste tecnologie cambiano veramente il vostro di lavoro e in parte anche il nostro che poi lo studiamo. Adesso vi mostreremo, vi mostrerò un QR code e per chi non ha lettore di QR code un indirizzo breve dove troverete un breve questionario che vi chiediamo di compilare che riguarda le seguenti cose. L'impatto reale su che cosa? Gli ostacoli e le priorità della digitalizzazione di alcune pratiche di gestione con le quali voi lavorate ogni giorno, reclutamento e selezione, performance management, training, amministrazione e servizi generali e struttura organizzativa e carriere. Quindi no idee immaginarie se volete, quindi non una realtà virtuale ma esattamente cosa succede con la digitalizzazione in termini di priorità, di ostacoli e di impatti. Nella seconda parte vi chiederemo in maniera più analitica rispetto ad alcune affermazioni su alcune di queste politiche di indicarci, di darci la vostra non percezione ma la vostra realtà, il luogo dove lavorate, come si configura rispetto ad alcune di queste politiche. Luca Solari inizia e ci traccia dal punto di vista del studioso di risorse umane, di organizzazione aziendale, quali sono gli impatti sui ruoli e sulla concezione dell'HR department legato ai processi di digitalizzazione? Luca. Grazie Paolo, l'obiettivo di questo breve intervento non è certamente quello di fare il punto sul tema del digitale ma portarvi alcuni stimoli generali che nascono come accade per chi come me, Paolo, pratica il tema dal punto di vista accademico da alcuni dati. il tema del sviluppo dell'economia e della società digitale è un tema che è di grande interesse all'interno anche della struttura degli obiettivi che si dà alla comunità europea. Da questo punto di vista noi come HR in Italia ci troviamo di fronte a una condizione di contesto innanzitutto che è complessa. l'Italia come si può vedere, diciamo, si può immaginare in questa slide, ahimè, è di fatto il quarto ultimo paese in termini di tutte quelle che sono le cinque dimensioni analizzate comparativamente. Giusto per darvi un'idea noi siamo davanti solo alla Grecia, alla Bulgaria e alla Romania. Questo è un dato che non riguarda necessariamente solo le imprese, riguarda l'insieme della società. Quindi ci troviamo di fronte a una condizione di contesto fatta di infrastruttura digitale, fatta di patent di utilizzo del digitale, fatta di capitale umano, che per noi che ci occupiamo di HR è un tema centrale, che certamente rende un pochino più difficile lo sforzo che dovremo mettere in campo per transitare, trasformare le organizzazioni per trarne vantaggio. Poi torneremo anche sul tema del è proprio necessario farlo. Un altro dato che entra un po' di più nel merito della parte di Human Capital riguarda gli skill digitali. Anche qui, come vedete, addirittura la nostra posizione è peggiora. In realtà la nostra posizione è migliore perché l'infrastruttura mobile, tutto sommato in Italia, prova ne sia che tutti abbiamo più di un cellulare e di fatto sulle tecnologie 4G e forse tra poco 5G siamo comunque uno dei paesi che si è mosso più velocemente, ci porta un po' più in alto, ma quando andiamo a guardare le competenze digitali il dato complessivo a livello del nostro paese è davvero molto preoccupante. E tra l'altro mi piace sottolineare un elemento, noi tendiamo a pensare che il problema sia legato solamente a un tema generazionale. In realtà i dati relativi alla scarsa dimestichezza con i digitali riguardano anche i cosiddetti millennials per una serie di ragioni legate ai sistemi educativi che certo come i HR non dipendono da noi, ma forse è venuto il momento in queste transizioni di agire anche perché chi produce forma a partire da noi, le persone che poi entreranno nelle organizzazioni nell'arco dei prossimi 5-10 anni inizia a cambiare radicalmente paradigma. Devo dire che da questo punto di vista mi è capitato di recente di fare una lezione triennale sull'organizzazione aziendale, poi ne abbiamo parlato Paolo, ma mentre raccontavo un po' dei nostri modelli tradizionali di organizzazione mi sono fermato quasi con un'esperienza di realizzazione, li ho guardati e ho detto beh però in effetti se dovessi guardare a che cosa vorrà dire gestire le interdipendenze tra qualche anno, tre quarti delle cose che vi sto raccontando sono utili perché altrimenti non ve le racconterei, ma probabilmente saranno destinate a cambiare. Faccio solo un piccolo esempio, noi siamo abituati a organizzare relazioni tra persone, persone che sono di fatto in grado di esibire comportamenti con flessibilità relative e quindi anche con capacità di risolvere i problemi semplicemente parlandoci. Io uso un assistente virtuale per organizzare i miei appuntamenti che è di fatto un software che si chiama Emi Ingram, ma Emi non è, è un qualche pezzo di software che da qualche parte nel mondo interagisce. Dovevo organizzare un incontro con un manager di una società di telecomunicazioni che ha passato il link via mail alla sua assistente personale. Quando ci siamo incontrati mi ha detto che l'assistente personale si era un po' arrabbiata e voi penserete perché ha capito che quella tecnologia le porterà via il lavoro. No, perché le ha detto ma sai che mi risponde in maniera un pochino rude questa Emi. Puoi dire al professor Solari se può trovare una persona, forse sarà perché è in India o da qualche altra parte. Allora questo che sembra un tema banale oggi è in realtà un tema sul quale nel tempo dovremmo intervenire. Come si fa a far interagire sistemi robotici con persone? Sembra un tema, come vi dicevo, che funzionerà naturalmente, ma chi si occupa di questo? E qui vicino a Genova abbiamo un gruppo molto importante di ricercatori all'interno dell'istituto italiano di tecnologia che lavora proprio sulla robotica con iCab, R1, quindi dei robot che lavorano sulle interazioni con le persone, sa che governare i sistemi complessi di interazione ci richiederà competenze completamente diverse. Ultimo passaggio di scenario che ci riguarda e di cui avevamo già parlato a Verona è legato al mutare delle forme con le quali si lavora. Questi sono i dati più recenti da un paper dell'OECD molto bello su che cosa sta accadendo nel mondo del lavoro, sono i dati relativi all'utilizzo di due piattaforme per di fatto il crowdsourcing di attività che sono Upwork e Freelancer. Vedete quello è un andamento classico di crescita esponenziale, stiamo andando verso un mondo nel quale sarà sempre più facile per una serie di professionalità ma nell'analisi dell'OECD il numero di professionalità che potranno essere disintermediate da un rapporto gerarchico tenderà a crescere e la cosa interessante è che questo poi vorrà dire anche una mixing di fonti, di source dalle quali andremo a prendere il capitale umano molto rilevante. A sinistra vedete i paesi che utilizzano di più professionalità su queste piattaforme, a destra i paesi che invece forniscono competenze. C'è un elemento che è molto interessante, a destra ci sono paesi come le Filippine, la Russia e Bangladesh però ci sono anche paesi come Stati Uniti, Canada e UK. Quindi da questo punto di vista il tema non è solamente un accesso a una forza di lavoro, forza lavoro che costa meno ma vuol dire un accesso possibile a competenze che magari scelgono o sceglieranno anche di rimanere più libere nel rapporto con il mondo delle imprese. Per fortuna non ci sono onde. Se guardiamo questi dati siamo nel maestro, io scendo stasera per quello, ve l'ho messo, così è un augurio, sono una persona gentile. No, è un modo per evitarlo in sostanza, no Paolo? Ma io credo che in realtà non lo siamo, personalmente ne parlavo oggi con il responsabile innovazione di una grande banca italiana. Questo è il momento più bello, almeno nei 25-26 anni ormai di vita nel rapporto con le organizzazioni che possiamo vivere, perché è un momento nel quale invece che dover necessariamente fare sempre le stesse cose, si apre una finestra di opportunità, che è faticosa, perché vuol dire ad esempio scoprire cos'è un QR code se non l'ho mai fatto, vuol dire magari che il mio computer in quel momento, il mio cellulare non riesce a funzionare, quindi mi richiederà uno sforzo, ma in fondo qualsiasi acquisizione di professionalità è sforzo. Se pensate ai 20, 15, 10, 5 o 30 anni della vostra esperienza professionale passata, non è mica stata tutta quanta rose e fiori, è stata fatica, difficoltà, impegno, cercare di imparare delle cose nuove, ma sono quelle che ci hanno portato qui. Quindi da questo punto di vista, questo maestro in realtà apre delle opportunità e a me piaceva concludere un po' evidenziando tre o quattro passaggi che credo possano essere dei temi sui quali torneremo a partire dall'esperienza dell'organizzazione. Il primo è che apre delle opportunità, perché oltre alle grandi organizzazioni che già oggi sono in grado di fornirci strumenti per l'uso del dato, per l'acquisizione del dato importanti, forse non tutti sanno che il segmento delle start-up più vivace nel mondo è quello delle start-up HR tech. Quindi in questo momento, nel 2016, giusto per darvi qualche dato, perché è importante anche osservare questi processi, ci sono state più di 350 nuovi interventi di venture capital su HR tech start-up, quindi del settore HR tech, con un investimento complessivo di 1,96 miliardi di dollari. In Angel East ci sono 451 società che lavorano su temi di HR tech con una valutazione media di 4,9 milioni di dollari. Quindi è un mondo che magari non conosciamo ancora, ma è un mondo dentro il quale stanno accadendo cose interessanti. Noi a Milano abbiamo organizzato per gli studenti del corso di laurea magistrale di Management of Human Resources, che è un programma interamente insegnato in inglese, un ciclo di incontri ad esempio con delle HR tech start-up italiane. E devo dire che emergono anche delle professionalità nuove, anche delle possibilità di carriera nuove, ma anche delle soluzioni a problemi che per molto tempo abbiamo cercato di mantenere all'interno di una visione abbastanza tradizionale. Quindi in questo maestro c'è un tema di possibilità di apertura. Abbiamo però bisogno forse di una mappa, una mappa concettuale. Io ho preso quella di Tolkien, forse essendo in mare avrei dovuto prendere una carta nautica, ma poi non avrei avuto la capacità di interpretarla. Perché una mappa? Una mappa fa due cose. Ci dice dove siamo, a meno che come dice Vaik non ci sbagliamo, però questa è un'altra storia che racconteremo in un altro momento. E poi ci dice anche che ruolo vogliamo giocare in quella mappa, la vogliamo solo guardare, la vogliamo attraversare, la vogliamo mettere in discussione. Ecco, questi sono i due ultimi punti sui quali io mi volevo soffermare. Il primo è capire dove siamo. Siamo in un mondo nel quale queste tecnologie consentiranno di fare cose diverse. E giusto per darvi anche qui di nuovo il riscontro di un dato, questo è una slide da una recente ricerca di CB Insight. CB Insight di fatto è questa nuova società che è specializzata nella raccolta di dati sul mondo delle start-up, in particolare che in qualche modo sta mettendo in discussione le posizioni classiche di Forrester e Gartner. E questa è la parte relativa a che cosa gli HR pensano sarà importante dal punto di vista tecnologico. Un campione molto ampio a livello globale, ovviamente un pochino distorto perché tipicamente sovra rappresenta il contesto nordamericano che è soprattutto l'area magari più high tech. Queste sono le cinque tecnologie più importanti. L'interfaccia vocale che ci sembra un po' banale perché magari abbiamo usato tre volte Siri e ci dà fastidio, però siamo molto vicini a essere in grado, io spesso i miei sms, le mie mail e altro già da prima con dei programmi specializzati, adesso con quelli normali le compilo direttamente utilizzando i comandi vocali. È arrivato per chi usa Apple, Siri anche sul computer e anche in Microsoft. Pensate quanta parte di capacità di risposta questo ci darà, anche solo nella parte di analisi dei dati. Un conto è cercare all'interno anche di semplici query un dato che ci interessa, un altro è poter dire quanti buyer ho all'interno della mia organizzazione o il computer in automatico ti fa vedere questo numero. Sembrano degli elementi minimi ma messi assieme ci daranno una capacità di analisi del dato e di comprensione incredibile. La robotica di cui parlavamo prima, le API di experience che sono un tema un pochino più tecnico legato al collegamento tra le nostre user experiences su diverse piattaforme nelle quali ci muoviamo. La gamification, la predictive analytics che è un tema invece che in questo momento già nel nostro mercato si sta muovendo molto velocemente. L'ultimo elemento è che ruolo giocare. Io qui sto un po' esercitandomi con un'idea di un pseudo modello, le matrici non sono modelli in realtà sono semplicemente modi per dare un ordine alle cose. Io credo che abbiamo due dimensioni sulle quali come i Ciarci dobbiamo confrontare anche tra noi. La prima riguarda che cosa vogliamo fare per noi e quindi che competenze costruire all'interno delle nostre organizzazioni. In quante delle vostre organizzazioni c'è qualcuno che sa cosa sono i SEO? Beh è importante chiedersi se questo sarà una delle competenze ad esempio per andare ad analizzare come facciamo employer branding all'interno delle piattaforme perché se non ho delle competenze di SEO come faccio a sapere che cosa scrivere, quando scrivere e come scriverlo in modo da avere il massimo risultato possibile in termini di attrattività. Quindi c'è un tema di guardare dentro e c'è un tema invece di ciò che facciamo per gli altri come funzione di supporto rispetto alla trasformazione digitale. E poi ci sono due modalità. Il primo è quello di essere dei fornitori e l'altro è quello invece di far accadere le cose. Allora guardando un po' a queste quattro dimensioni abbiamo quattro possibili ruoli. Il punto che spesso io sottolineo è che in ogni modello di ruolo noi non dobbiamo decidere qual è ma capire quale parte della nostra organizzazione è pronta a gestirlo. Fornire a noi the layer, quindi costruire all'interno della nostra organizzazione delle competenze digitali che faranno sì che i nostri HR BP ad esempio siano in grado di aiutare una linea che non necessariamente sarà più pronta di noi. Magari nel marketing sì, ma se voi iniziate a fare smart production e dovete parlare con qualcuno che gestisce una parte di impianto è probabile che magari la sua dimestichezza con temi di digitale sia anche inferiore rispetto a quella che potranno avere le persone che lavorano nella vostra organizzazione. Fornire agli altri, i breeder. Molte volte ci viene chiesto e anche oggi nella sessione precedente anche in questa un po' ci chiediamo, in quella precedente si parlava di competenze digitali, in quella attuale parliamo di processi, ma uno dei temi che molte direzioni di Sossomani mi portano è il CEO mi chiede se siamo pronti dal punto di vista digitale, ma che cosa vuol dire essere pronti? E qui la posizione anche di chi fa ricerca è che essere pronti vuol dire innanzitutto capire che diamine di processi gestiamo. A me non interessa sapere che il 95% delle persone usa Whatsapp e so what? Chi se ne frega? Sai cos'è Facebook? Ma chi se ne frega cos'è Facebook? Cos'è LinkedIn? Devi essere per farci? No, il tema è quali sono i processi di business che sono impattati da questo e quindi quali sono gli elementi di competenza specifica che possono servire. Ed è lì che serve le HR perché altrimenti il tema è semplicemente comprare e so che ad esempio Google sta lanciando una grossa iniziativa su questo tema di learning sul digitale, comprare soluzioni che sono già ready made per far sì che ogni persona sappia un po' di digitale. E poi ci sono invece i due ruoli che essendo io una persona che ama le trasformazioni e i cambiamenti riguardano l'enact, far accadere le cose. E qui c'è un ruolo forte per chi come voi è un HR manager, perché nell'altro sì è importante, però in fondo può essere qualche cosa che lasciamo a chi fa il learning o il talent o l'employer branding. Da un lato c'è un tema di mutare, di diventare il mutante, cambiare radicalmente la nostra funzione, il modo con cui opera, ad esempio capire che alcune segmentazioni tradizionali che abbiamo utilizzato non è detto che funzionino. Io personalmente non amo molto la segmentazione per categorie di età, non credo che sia determinante, perché che cosa mi interessa? Dire ok, gli over 50 sono fatti così, gli under 30 sono fatti con là, è naturale che sia... Bene, e quindi? Qual è il tema in questo? È proprio un HR che fa qualcosa, è quello che non si limita a registrare cosa gli dice il mercato, a registrare cosa dice il mercato basta semplicemente osservarlo ed è finito lì. E poi quello che a me piace più di tutti, che è quello che mi fa pensare, Paolo, che siamo nel momento più bello per fare il HR, più rischioso, ma forse più bello, il Rainmaker. Perché se è vero che in molte organizzazioni la prima fase è stata guidata prevalentemente dalle funzioni marketing, in sales, quindi quelle più legate al customer journey, la seconda fase della trasformazione digitale non può avvenire se non c'è una direzione personale che sia una direzione risorse umane o una direzione people, chiamatela come volete, qui qua qua, gli aspetti nominalistici per me sono meno importanti, che si mette al centro e riprende a fare quello che ha fatto quando è nata, osserva i processi, li comprende, mette assieme le competenze legate alle persone con le tecnologie e prova a costruire trasformazioni organizzative che non siano semplicemente una sequenza di analisi di organizational readiness, momenti come dire un po' simili agli incontri di autoconsapevolezza che si fanno all'interno della Weight Watchers e portare a casa dei risultati in termini di valore, anche perché se c'è una cosa che noi sappiamo è che gli investimenti massivi, a prescindere da una conoscenza del business, non hanno nessun significato. Credo che gli esempi che vedremo tra un attimo ci raccontano storie che vanno in questa direzione, no Paolo? Ed è questo proprio il messaggio che anche come accademici noi vogliamo dare, cioè ci sono evidenze, lavoriamo sulle evidenze. C'era una volta Dave Ulrich, ci sarà Luca Solari.